Il codice purpureo rossanese antico evangeliario appena restaurato, patrimonio culturale calabrese, è stato il simbolo della visita di Papa Francesco al Quirinale. Nell'incontro tra il Papa e il Capo dello Stato, infatti, le tv di tutto il mondo hanno avuto modo di ammirare l'antico evangeliario, mentre Papa Francesco e Napolitano si sono intrattenuti per qualche minuto davanti alle pagine ricche di immagini e contenuti del Codex purpureo rossanensis, risalente al V-VI secolo d.C. Il volume, esposto nel corso della visita del Papa al Quirinale per la prima volta dopo il suo restauro e che è custodito presso il Museo Diocesano del Centro Cosentino, contiene tutto il testo del Vangelo di Matteo e di quello di Marco, con 15 tavole che rappresentano la vita di Gesù e riportano alcune parabole. Il Codex venne denominato purpureus perché i fogli di cui è composto sono di pergamena realizzata con pelle di agnellino in tinto nella porpora, perciò di colore rosso. Un vero e proprio tesoro che fa parte del patrimonio culturale calabrese e che ha avuto la giusta attenzione. Le immagini del Codex purpureus, illustrato da Monsignor Marciano a Papa Francesco e al Presidente Napolitano, nonché l'indicazione continuata nei commenti di sottofondo di Rossano, quale città calabrese di provenienza del Codex, trasmesse in diretta su tutte le rimittenti nazionali, satellitari e internazionali, come mai è accaduto prima, rappresentano per la loro diffusione l'esempio e lo stimolo migliori per una promozione positiva della nostra regione e del nostro turismo culturale e religioso. Grazie a tutti.